Domenica, ho tanti, dice, quanti sono? Maestro? Non abbiamo ancora contato, è più di 30 sicuramente. Più di 30, ma sembrate ragazzini, va beh, lui non tanto, però voi dietro sì. E che ci conserviamo bene, ci conserviamo bene. Ci conservate bene. Quando una donna passa e ti sorride, può darsi che lo faccia per allegria, per gioco, o un po' per vanità. Quando una donna racconti la tua storia, puoi dire mille cose, se non sarai sincero, lei non ti crederà. Ma se una donna ti guarda dentro agli occhi, senza parlare, senza affiatare. E se nel petto, poi, le batte forte il cuore, allora è una donna che vuole amare. L'amore di una donna non si può fermare. Leggero come il vento, bello come il sole, grande più del mare. L'amore di una donna, o refugge via, sul treno della vita, vola sulle ali, nella fantasia. L'amore di una donna, di una donna vera, vale una vita, una vita intera. L'amore di una donna, di una donna vera, vale una donna vera. L'amore di una donna vera. agli occhi, senza parlare, senza affiatare, e se nel petto poi le batte forte il cuore, allora è una donna che vuole amare l'amore di una donna, leggero come il vento, bello come il sole, grande più del mare, l'amore di una donna, di una donna vera, vale una vita, una vita intera, vale una vita, l'amore di una donna, e c'è una voce, eh?